salve a tutti e benvenuti in un nuovo video siamo qui oggi su smash legends di nuovo dopo tanto tempo per far vedere la nuova leggenda scusate ovviamente sto ancora non messo troppo bene tra una settimana dovrei finalmente tornare a tornare andare in una nuova casa e lì vi spiegherò definitivamente tutto magari tutto quello che più o meno è successo ora siamo qui oggi per fare questo video temporaneamente o non so fra quanto uscirà perché abbiate pazienza una connessione lenta di dati mobili siamo qui per far vedere la nuova leggenda che è un persaggio di rapino solo madame latis vedete qua la sua icona latis è la la parodia non è che sono parodia è l'adattamento di del persaggio cattivo di di stafia e il nome italiano non lo fa capire troppo ma si chiama moda lattuga quindi in questa serie si chiama solo così la vita non hanno famiglia non hanno nulla si chiama solo così non esiste proprio che la bronzo si chiama moda rapa e appunto questa sua finta madre attiva ma in che senso a dire finta se è madre attiva si chiama appunto a molla attuca in inglese si chiama letteralmente quindi che significa l'attuca siamo qui oggi veramente bene la città due giorni fa io mi sono dentiato hanno avuto anche tempo per vari motivi di farvi vedere il video e domani la otterrò direttamente che vedete al passo sto già a fase 9 come il soldo io abbastanza gemme per ottenerla vabbè faccio vedere non parlo più e la proviamo un po' sperando che tutto regga vai 5 大会に参加したおかげで研究に費やす時間が足りません C'è un problema? style では 実験を始めましょう 時間の無駄なので 早くしましょう 今日のサンプルは誰ですか Grazie a tutti 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 Grazie a tutti